Allora, innanzitutto questo è un atto dovuto e quindi non è, come diceva giustamente, una novità, anzi è un evergreen che capita tutti gli anni e questo prevede la procedura. E il richiamo in genere agli scolari sono un po' indisciplinati, mettiamola così. E riguarda il debito 2018. Bella l'avate presa anche voi, eh? Detta questa cosa. Ci sono presa tutti la lettera. Il tema è dove vogliamo andare, cioè qual è l'obiettivo, la crescita. Quindi la lettera alla fine avrà una risposta, ovviamente non posso entrare nei dettagli per motivi chiari. Di riservatezza, ma c'è mai senso. Però ci sarà una risposta seria e convincente che chiude la partita. La partita vera poi dopo è sia a livello europeo, e qui nel fare i complimenti e le congratulazioni a Carlo Calenda, c'è tanto da fare in Europa per far ripartire tutta l'Europa. E congratulazioni perché è stato il più votato nel PD? Ha preso un sacco di voti. C'è gente che scrive e gente che scrive. Quindi sia a livello europeo bisogna lavorare tutti insieme per far ripartire l'Europa, perché l'Europa ha un problema di crescita. Non possiamo, proprio come sistema Europa, non crescere così tanto. E poi noi in Italia abbiamo le nostre gate da pelare, però testardamente pensiamo di poter continuare in un'operazione già iniziata di abbassamento di imposte. Il tema vero è la flat tax, quindi dopo averla abbassato per le imprese, abbassarlo per famiglie e persone fisiche e quindi dare fiducia, che è quello che sente. Allora, andiamo con Ordi. Lei ha detto una lettera convincente. Allora, convincente significa che lei immagina che gli interlocutori, quelli che la riceveranno, saranno convinti dal contenuto della lettera. Io penso di sì. Ma quelli vogliono che il debito scenda. E voi pensate di convincere sul fatto che noi lo faremo scendere? Ho detto prima che non posso entrare nei dettagli, però io penso proprio che quando la leggerete la risposta sarà... Quindi Moscovisi e Dombrosi stanno dicendo, ah, però, gli italiani, hai visto? Tutto sommato non è così male rispetto a quello che si dice in giro. Bene. Allora, dicevamo prima le lettere, ve le siete beccati tutti. La più darmatica fu quella del 5 agosto 2011, Berlusconi, che fu... Poi però, mano a mano a mano. Ma io non ho mai considerato le lettere particolarmente rilevanti e anche qualche volta piuttosto fastidiosi. E detto questo, il problema è ben altro, ovviamente, no? Il tema è che noi abbiamo 23 miliardi di clausole IVA da levare e 30 miliardi per fare un provvedimento che io giudico sbagliato, che è la flat tax, in una situazione in cui mi permetto di dire le imposte sulle imprese al momento sono salite di 2 miliardi e complessivamente la pressione fiscale rimane molto alta e prevista in crescita, col debito in crescita, col deficit in crescita e con una situazione in cui le misure principali del Governo, per stessa ammissione del Governo, non producono crescita. Dunque c'è un quadro che è un quadro, secondo me, confuso e a me interessa molto poco cosa pensa Bruxelles. Quello che mi interessa e quello che deve interessare a tutti è cosa pensano quelli che devono comprare il nostro debito, perché comprando il nostro debito ci consentono di finanziare la sanità, di finanziare la scuola, di finanziare le pensione. Però finora ce l'ho comprato, anche ieri, anche l'ultimo nostro. Pagandolo da 130 a 287 punti, quindi c'è una differenza sostanziale. E ricordo una cosa, in maniera che siamo tutti molto consapevoli e non ci svegliamo una mattina, che nel 2011 la curva di crescita dello spread fu molto repentina e bisogna stare molto attenti, perché quando la situazione parte, parte molto rapidamente. Al di là dei costi che abbiamo in più per pagare già oggi, più, molto di più, più del doppio lo spread. Ma questo è, ripeto, quello che oggi il governo deve chiarire, se intende portare il deficit non aumentando l'IVA e facendo la flat tax al 5,1-5,2%, o come intende coprire queste robe. Perché se no gli investitori, come tutti, sempre nella vita, come succede a noi, dicono ma scusate, di che state parlando, cosa volete fare? Questo è la chiarezza, la trasparenza. Nel 2011, a luglio, lo spread era ancora intorno a 120-130, a novembre, tocca la punta, di 570, se sto su 550, però lì c'era un governo boccheggiante, perché di fatto Berlusconi aveva una maggioranza molto risicata, insomma. Però questo pure, dal servizio, non mi sembra godermi. Esattamente, per dirla tutto, è stato altissimo anche con Monti per tutto l'anno. Era piena crisi finanziaria, attenzione. Questo è un caso molto diverso, perché non è una crisi finanziaria importata. È vero, è vero, con Monti ritoccò una volta 5,3, oltre 500 andò. Eravamo nel pieno di un'enorme crisi finanziaria. Uno basta che guarda i dati e poi dopo si fa un'analisi fatta bene. Prima, a proposito da FedDax, l'altra sera qua, Salvini, ha detto che vorreste, diciamo abbiamo fatto già quello per le partite IV, eccetera, ma ha parlato di 15% per le imprese. Lei ha messo anche famiglie, eccetera. Chi saranno i beneficiari nel vostro disegno? Sono due cose diverse. Per le imprese già è stata fatta un'enorme semplificazione, che proprio col decreto crescita andiamo a completare. Alla fine le aliquote per le imprese saranno tre. 24 se porti fuori i dividendi, 20 se porti fuori i dividendi, se li lasci in azienda, perché noi abbiamo bisogno che le aziende crescano, aumentino il patrimonio, facciano investimenti, se li lasci dentro il 20 e poi c'è oggi, con il limite a 65 mila euro, il 15% per le partite IV, che si allarga, come è noto, dal primo di gennaio al 20% fino a 100 mila euro. L'obiettivo è di ridurlo ancora fino a 100 mila euro al 15%, poi in prospettiva di abbassare al 15% quel 20. Però una cosa alla volta. In tante è stata fatta un'enorme semplificazione e per inciso quella riduzione dal 24 al 20 dell'IRES vale 2 miliardi di tasse in meno per le aziende, che non sono bruscolini. E questo è già finanziato e già legge oggi. L'altra fetta di operazione che vogliamo fare riguarda le persone fisiche e le famiglie. L'operazione flat tax riguarda le famiglie perché è previsto di ridurre le imposte sulla base del nucleo familiare. Cioè alla francese sostanzialmente, non conta il reddito del capo famiglia, se è un monoreddito e monoreddito, però se lavorano tutti e due si computa il reddito familiare. Esattamente. E quindi questo abbatte le tasse in maniera differenziata secondo della composizione del nucleo familiare. In questo senso famiglie e persone fisiche. Poi stiamo vedendo i dettagli di tutta l'operazione, però siamo già a buon punto dal punto di vista tecnico e quindi pronti per entrare nel merito della questione in legge di bilancio. Ecco, ma voi contate molto sul fatto che questa sia una commissione scaduta e che quella nuova entra in funzione a novembre, sostanzialmente. Di fatto un vero interlocutore in Italia ce l'avranno come tutti a novembre. Ma per forza di cose l'interlocuzione ce l'abbiamo a novembre e come tutti gli anni la legge di bilancio vero si fa in agosto, in settembre con i dati che ha in quel momento e anche con la nuova commissione. Però al netto di questo noi stiamo lavorando. I mercati ci hanno sempre detto che sarebbe una buona cosa. Sì, se non è fatto in deficit, ma col taglio delle spese. Due punti di rettifica. La manovra sulle imprese è stata finanziata cancellando un provvedimento previsto che si chiamava Liri e Lacea, per cui è totalmente neutra. Le imprese stesse, pare solo l'Assemblea di Confindustria della scorsa settimana, sono molto seccate perché sono stati tagliati massicciamente in presa 4.0 che ha fatto volare gli investimenti. Tanto che gli investimenti calano dell'1,3 ed è il dato più preoccupante. Ma al di là di questo che è poco rilevante, c'è una domanda a cui io non trovo risposta, che prescinde dalla Commissione Europea. Diciamo che la Commissione Europea non conta niente, dice quello che vuole, non ce ne frega nulla. Sono i mercati. La domanda è, a cosa gli dite? Com'è che questi 53 miliardi di euro vengono trovati? Perché questo credo che sia legittimo saperlo per gli italiani. Perché se non lo sappiamo, visto che sono promesse che avete fatto, diventa estremamente preoccupante. Allora, rispondo all'ottimo calendario. Allora, due temi diversi. Una cosa le clausole e un altro il resto della manovra, la flat tax. Perché la manovra di bilancio sarà la flat tax. La riduzione delle tasse per famiglie e persone fischie. Questo è il nostro obiettivo. Sulle clausole di salvaguardia, noi, molto pragmaticamente, facciamo quello che è stato fatto fino adesso. Non è una novità di oggi. Il grosso delle clausole nascono col governo Renzi, con i famosi 80 euro. Prima. No, il grosso nasce lì. E valevano 19 miliardi. Da lì in poi noi questi ce li trasciniamo. No, sono scesi e poi... Dilla tutta. Sì. Dilla tutta. Ma comunque, sempre 19 stanno. No, sono scesi e poi li avete fatti risalire di 9 miliardi. Siamo persone, siamo genti. Sì, ho capito. Però 19 erano, adesso sono 23. Sì, però passando a una diminuzione a 13 che poi l'avete riportata a 23. Capito. È così? Sì, però la differenza tra i 19 che ci siamo trascinati e i 23 fa 4 miliardi su 860 miliardi di bilancio. E no, che erano scesi a 13. Ho capito. Ci possiamo essere d'accordo su questo? Sì, ma non stiamo a fare polemiche. Io stavo banalmente facendo un ragionamento numerico. Come i 19 ce li siamo portati e non è morto nessuno, adesso ce ne hai 23 che sono 4 in più rispetto ai 19 che ci siamo trascinati. Rispetto alla manovra di bilancio dell'anno scorso. Quindi non è un grande problema. Come è stato risolto l'anno scorso, si risolve quest'anno. Il resto? Il tema vero è la flat tax. Sulla flat tax, dove ci sono tutta una serie di simulazioni, abbiamo sentito conti di tutti i tipi, noi stiamo facendo i conti veri. Alla fine l'operazione è fatta bene, anche perché noi abbiamo un obiettivo pluriennale. Noi vogliamo iniziare subito con una bella botta e poi nel tempo implementare completamente l'operazione. Già oggi con 10-12 miliardi riesci a farla. Questi 10-12 miliardi una parte la possiamo recuperare facendo una semplificazione della marea di deduzioni e detrazioni che ci sono. Noi siamo l'unico paese al mondo dove per fare 730 c'hai un manuale di 100 pagine, che è una roba da matti. E oltretutto con effetti distorsivi, perché chi è più ricco ha la possibilità di avere benefici maggiori. Uno perché può valersi di professionisti, due perché spende di più e paradossalmente è avvantaggiato. Quindi un'operazione anche di equità qua dentro si può fare. Oltre a questo ci si mette un po' di benzina, quindi qualche, giustamente, soldi in più, perché l'operazione deve essere non neutra, altrimenti è un gioco delle carte, è solo una semplificazione. Quindi nel fare una enorme semplificazione ci si mette qualcosa in più perché giustamente le tasse deve abbassarle e poi si sistema anche quel pasticcio, diciamo così, degli 80 euro che non vengono tolti, perché non è che si tolgono gli 80 euro. Semplicemente, anziché averli come spesa, che è una roba che non ha senso, li hai come detrazione d'imposta, come riduzione di tasse, così migliori anche, che è una cosa positiva per gli investimenti, migliori il bilancio del Stato. E' un po' della replica di Calenda. Sentiamo un momento con Giancarlo Dardinelli che cosa vi si è indetti oggi con Salvini, perché vi siete riuniti, tutti quelli che nella Lega si occupano di economia hanno avuto una lunga riunione con Salvini. Vediamo.